buongiorno a voi e benvenuti oggi parliamo di illusione parliamo di gioco e di fantasia nascono con noi probabilmente crescono con noi e ci aiutano a crescere a diventare grandi e quando siamo grandi quando siamo adulti di restare un po bambini una modalità che probabilmente ci aiuta anche probabilmente lo sappiamo per esperienza diretta o in diretta raccontata da amici ci aiutano anche ad affrontare situazioni complesse difficili nel tutto questo parliamo oggi con manuela trinci che in video con noi buongiorno dottoressa grazie per essere in nostra compagnia buongiorno a voi e grazie per l'opportunità e psicoterapeuta infantile e a proposito si pensa che l'illusione gioca la fantasia siano proprio tre risorse tre doti io penso mi piacerebbe definirle le tre fate ecco che ci accompagnano durante l'infanzia e poi svolazzano via in realtà restano dottoressa trinci che dice ma io non posso che essere d'accordo con lei e apprezzare moltissimo quest'idea che siano tre fate attorno alla culla a portare proprio benessere al futuro bambino che deve diventare grande allora sicuramente illusione è proprio illusio è proprio l'entrare in gioco no è la capacità che abbiamo soprattutto da bambini per i bambini il gioco è una cosa estremamente seria come diceva Freud per altro e illusio è la capacità di entrare dentro al gioco la fantasia in questo caso qui è proprio la capacità che il bambino ha fino dall'inizio e adesso per esempio i nuovi studi gli studi per esempio delle neuroscienze hanno visto come il gioco è un qualche cosa che è proprio dentro al dna di ognuno di noi basta vedere un bambino che tocca la mano il golfino della mamma bebe no quello è già un suo modo di giocare su questo abbiamo molte esperienze e anche molti studi da diciamo così veramente dai tempi di Freud ai giorni nostri con continua evoluzione in merito tutto questo va a far leva su quella che possiamo definire la creatività cosa vuol dire essere creativi mica si deve diventare Picasso in questo senso è bello però è appunto è la nostra fantasia che ci porta a pensare che facendo uno scarabocchio siamo diventati Paul Clay però la creatività che noi auspichiamo per tutti è quella della capacità di essere se stessi di vivere anche momenti di noia però anche la noia poi serve no per diventare è come un campo lasciata magese ci sono dei momenti in cui ci dobbiamo riposare dei momenti in cui possiamo invece diventare più creativi sempre rimanendo noi stessi credo che questo sia il grande obiettivo però tutte queste doti che ci sono dentro di noi come lei ha detto giustamente all'inizio che sono implicite nella natura umana noi dobbiamo trovare delle modalità per poterle sollecitare per poterle sviluppare ecco questo è un po il lavoro che uno psicoterapeuta infantile oppure dell'età evolutiva o come pure uno psicoterapeuta terapeuta dell'età adulta può nel suo lavoro all'interno della stanza all'interno dell'istituzione all'interno anche di altre aree e ambiti di competenza può sicuramente sollecitare e renderle cioè un bambino Winnicott diceva un bambino che non sa giocare deve essere messo in grado di giocare di Navallino grande psicoanalista milanese diceva un bambino che non sa raccontare deve essere aiutato a poter raccontare una storia a poter raccontare la sua vita per far questo c'è l'arte c'è la letteratura anche la musica anche noi terapeuti abbiamo bisogno no di queste sollecitazioni esterne per nutrire la nostra immaginazione quindi sono queste tre fate come le abbiamo soprannominato queste tre doti queste tre risorse aiutano il nostro la nostra salute psicofisica a tutte le età quindi manteniamo le coltiviamo le facciamo crescere i nostri bambini dando tutti gli stimoli a proposito di bambini lei è referente scientifico nella direzione scientifica della ludoteca biblioteca dell'ospedale pediatrico Meyer di Firenze torniamo ancora ai bambini perché proprio di illusione gioco e fantasia parlando quindi dell'immaginazione anche della creatività è dedicato il suo ultimo libro che io di cui consiglio la lettura si intitola il mio letto è una nave un libro che appunto racconta si rivolge ad una descrive una situazione in cui davvero l'immaginazione il gioco e la fantasia queste buone pratiche anche che vengono derivate no stimolate da da queste risorse da queste attitudini da queste dote possono fare la differenza ci racconta in che modo in queste ci vengono in aiuto anche in un momento difficile come può essere l'ospedalizzazione del bambino per i genitori e soprattutto anche per lui ma guardi proprio umanamente quando io ho assunto la direzione il coordinamento scientifico della direzione scientifica grazie proprio alla fondazione Meyer la cosa che mi aveva colpito di più era proprio la capacità dei bambini di attivare le proprie risorse quando venivano a giocare o a leggere in ludoteca e biblioteca e allora mi sono interrogata mi sono chiesta appunto come lei diceva le buone pratiche a questo punto un bambino che è ospedalizzato un bambino che ha ricevuto per esempio una diagnosi certe volte i bambini vengono perché hanno una scarlattina e la febbre alta ma certe volte vengono per ben altri motivi e allora la diagnosi in qualche modo irrompe in una realtà in una quotidianità del bambino e vengono meno la scuola vengono meno tante possibilità di socializzazione allora noi abbiamo pensato all'interno della direzione scientifica e con gli educatori della ludobiblio del Meyer proprio di attivare alcune pratiche come le faccio un esempio e grazie credo riusciamo a entrare meglio la pratica della buonanotte che ha avuto un riscontro mediatico enorme è una pratica in realtà dove si va a leggere all'interno di un reparto e questo diciamo che è una frequente modalità di lavoro ma ci si va a leggere la sera e si va a leggere suonando un campanellino che richiama alcuni bambini del reparto che seguono una specie di pifferaio buono di bambini e quindi i bambini ci vengono dietro e le volontari dell'associazione Helios leggono delle storie a loro messi in cerchio e insieme ai bambini vengono chiamati i genitori che sono sempre insieme ai bambini che cosa sollecita questo intanto sollecita un momento di aggregazione di amicizia che non sempre in ospedale possibile anche fra i genitori perché lo scambio di esperienze è un momento in cui uno è importantissimo e poi non ci dimentichiamo il pigiama party cioè un grande classico il pigiama party quindi diciamo pure che i bambini in ospedale fanno il loro pigiama party e quindi questo è per farvi un esempio concreto come pure il progetto bellissimo e innovativo del poetare in ospedale pediatrico qui sono venuti con generosità i più grandi poeti per bambini e ragazzi che abbiamo Bruno Tognolini Giudi Guarenghi Chiara Carminati potrei fare nomi di altri di molti altri beh cosa significa questo per un bambino ospedalizzato significa fare un'esperienza tipica dell'età della loro età che però l'ospedale in quel momento li precluderebbe si chiama in qualche maniera se vogliamo essere più tecnici educazione al presente cioè l'ospedale non è un luogo che preclude una serie di esperienze che ti fanno sentire vivo dentro guardi io non credo che una rima ben fatta o baciata sia in qualche modo una un farmaco però sicuramente serve a divergere il pensiero perché se il pensiero per l'adulto guardi come bambino tutti sarà capitato di avere malattie persone che si amano malattie un pensiero che ci porta via e quindi invece stare nel presente ma se il pensiero è su un binario unico e si pensa solo alla malattia cioè questa si amplifica allora noi dobbiamo veramente aiutare il bambino a ritrovare l'illusione come l'adulto in questo io le do ragione quando lei diceva all'inizio che queste sono cose che riguardano tutti bisogna avere una capacità di illudersi nel senso etimologico della parola una capacità cioè di entrare in gioco e di attraverso queste forme della cultura è proprio stare dentro a delle esperienze che possono essere condivise che possono essere metabolizzate attraverso la musica ci abbiamo anche che ovviamente in ludobiblio i musicisti abbiamo fatto delle esperienze di filastrocche rodariane messe in musica a che serve tutto questo ma questa è una ricchezza enorme e certe volte non è un intrattenimento è un nutrimento questo e dottoressa mi sembra cioè leggendo il libro e sentendo i suoi racconti e questo che noi dobbiamo un po trasferire anche al di fuori dell'ospedale o anche in altri ospedali siano per questi per per i piccoli sia per gli adulti ma tenerlo come informazione per affrontare le sfide quotidiane tutti noi in qualche momento della nostra vita abbiamo bisogno di una terapia di un approccio di essere curati da un dolore da un pensiero da un fallimento che noi non riusciamo a superare dottoressa trinci chiedo aiuto a lei in questo modo dal suo libro il mio letto è una nave io ho tratto proprio questo messaggio forte non solo ho capito il vostro lavoro e l'intento e l'obiettivo ma ho capito anche come nel suo libro proprio viene fuori per questo è un libro secondo me adatto a tutti non solo alle persone che hanno ai familiari di un bambino in ospedale dottoressa trinci che dici assolutamente l'ultimo suo punto questo è un libro noi lo abbiamo voluto fare fortemente nella collana la cura della nave di teseo che è proprio una collana diretta da Giampaolo Donzelli che è neonatologo e che è stato a lungo presidente della fondazione MEI proprio per esportare delle buone pratiche cioè questa della buona notte non costa niente cioè però presuppone una grande formazione del personale non si può pensare ad andare in ospedale o in un qualsiasi luogo di cura così scherzando e giocando cioè bisogna essere pronti anche ad affrontare tutto questo questo è il primo punto che mi sembrava importantissimo poi non intrattenimento ma nutrimento il problema è proprio quello di riuscire a integrare la cura medica con queste forme di arte di cultura perché abbiamo noi per esempio abbiamo un bellissimo orto giardino dove bambini piccoli anche piccolissimi e vanno lì e piantano una cosa vuol dire questo vuol dire vedere una pianta vuol dire che il verde le più recenti veramente ipotesi scientifiche hanno fatto ci hanno dimostrato come se noi stiamo dentro a un ambiente verde questo diminuisce l'uso dello psicofarmaco quando si va a fare tacco risonanze io non ho mai capito perché ci mettono nell'ultimo sotterraneo possibile ma mettiamo qualche fiore nei nostri camion e questo avrebbe è proprio così è proprio così dobbiamo esportare come dice lei le buone pratiche e metterle in tutti gli ambienti nel nostro ambiente eh dottoressa trinci ricordo il titolo del libro mi ho letto una nave ehm intanto la ringrazio per essere stata con noi torneremo naturalmente ad occuparci di questo tema che è poi comune a tutti no cercare di integrare tutte quelle conoscenze che anche la ricerca ci mette a disposizione per nutrire la nostra salute il nostro benessere quella delle persone che amiamo in ogni momento in ogni condizione vivendo il presente dottoressa trinci alla prossima buona giornata grazie mille buona giornata a tutti voi ciao